Una bella giornata quella di oggi, ricorderemo uno degli uomini più importanti, uno degli uomini che ha fatto la storia della diplomazia italiana, quindi insieme all'ONU e alla NADA, quindi ha fatto valere con la forza delle sue idee, con la sua professionalità, competenza, determinazione e temperamento, quindi il nome dell'Italia all'estero. Oggi siamo orgogliosi di poterlo ricordare, di poter ricordare l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, per quanto fatto, per quanto invita e quanto seminato per quello che ha lasciato, il ricordo che ha lasciato nei suoi allievi tra i tanti l'ambasciatore Ettore Sequi, attraverso il direttore generale della Farnesina, che peraltro lo ricorderà con uno splendido messaggio. Quindi siamo orgogliosi, felici di essere stati, di aver colto l'opportunità, l'occasione di fare entrare in un certo qual modo nella città un uomo di gotanta importanza. Grazie. Grazie.